Voto sì perché ritengo che oramai la nostra Costituzione, che ricordo è stata approvata nel dicembre del 1947 e è entrata in vigore nel 1948, abbia bisogno di una rettifica, di un adeguamento alle esigenze della nostra società. Il bicameralismo perfetto che all'epoca poteva trovare una sua giustificazione, oggi non ha più quelle stesse ragioni di esistere ed è necessario che chi governi, chi vinca le elezioni, abbia anche la possibilità di governare con una certa agilità e velocità. Non possiamo rimanere sempre bloccati rispetto a veti fatti più nell'ottica di tentare di avere più spazio rispetto a quello di condividere un progetto.